Ciao a tutti, oggi prepareremo la salsa agrodolce piccante. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono aglio senza anima, aceto di mele, fecola di patate, sale, peperoncini rossi freschi privati dai semi, zucchero e acqua. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i peperoncini, lo spicchio d'aglio senza anima, il sale, lo zucchero e l'aceto di mele. E frulliamo il tutto per 20 secondi a velocità 7. E adesso cuocere per 3 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Aggiungere la fecola di patate. ed accenniamo il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, velocità 4. La salsa è pronta. Trasferiamola in una ciotolina o in un barattolino sterilizzato e lasciamo raffreddare. Salsa agrodolce piccante. Si conserva in frigo per 7-10 giorni. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.